cioè ragazzi io non ho parole intanto buonanotte perché è l'una di notte ma io questo video lo devo fare uscire lo devo fare uscire osimen napoli rottura totale addirittura il giocatore sta cancellando le foto del napoli dal suo profilo instagram ragazzi anzi vi faccio vedere anche le immagini ragazzi questo è il profilo instagram di ragazzi come potete vedere non ci sono più le immagini del napoli l'unica immagine del napoli è questa qui per il resto ragazzi non c'è più nulla cioè ragazzi questa è una cosa gravissima questa è una cosa veramente grave non mi sarei mai aspettato una cosa del genere sono sincero è incredibile ora molto probabilmente domani non sarà convocato per la partita contro l'Udinese il tiktok che ha fatto uscire il napoli personalmente è una cosa schifosa ridicola perché in un momento come questo tu non devi pensare al tiktok a instagram e facebook e via dicendo tu devi stare zitto rimpiango i tempi dove c'era il silenzio stampa dove nessuno poteva più dire niente questo video di tiktok ragazzi praticamente quando osyman si procura il calcio di rigore e poi lo sbaglia c'è questa vocina sotto che dice deride victor osyman in questo modo dammi il rigore dammi il rigore e però in modo scherzoso terzoso secondo l'admin del napoli di tiktok il problema ragazzi è uno solo che l'agente di osyman Roberto Calenda tuona contro il napoli quanto è accaduto oggi sul profilo ufficiale del club su tiktok non è accettabile è un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali per tutelare victor ragazzi quindi è ufficiale osyman in napoli c'è rottura totale totale ragazzi io quando vi dissi io che questa società è una società ridicola è una società che non sa cosa vuole fare cosa deve fare e come lo deve fare abbiamo vinto uno scudetto e questa cosa non me la scorderò mai perché è il mio primo scudetto ragazzi ma per vincere uno scudetto l'anno dopo il signor Aurelio De Laurentiis che non ha ancora parlato ufficialmente via twitter o x chiamatelo come vi pare o su un comunicato ufficiale stampa del napoli non si è ancora presentato non ha ancora detto niente e anche su questa cosa di osyman è molto grave tu dovevi far uscire subito un tweet per parlare proprio di questa situazione osyman a napoli e tu non l'hai ancora fatto il giocatore addirittura si legge che sta togliendo il follow da tutte le pagine napoletane tutti i social napoletani dell'SSC Napoli e questo ragazzi è una cosa gravissima è una cosa gravissima addirittura c'è gente che si esalta per questa cosa e sta dicendo dobbiamo difendere la società dobbiamo difendere questo ma ragazzi io ora vi faccio una semplice domanda ma come fai? tu mettetevi nei panni di osyman l'allenatore non ti capisce i risultati non arrivano tutto quello che fai sembra che valga zero perché ragazzi oramai il Napoli diciamoci la verità sta messo male 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 sta messo male in campionato sia psicologicamente ragazzi anche questa cosa e questa cosa del tiktok contro osyman è la goccia che ha fatto traboccare il vaso diciamoci la verità io personalmente mi scrivo dalla parte di Victor come ho sempre fatto con tutti i giocatori del Napoli ragazzi a me non me ne frega niente della società anzi continuo a ribadire che questa è una società ridicola che mette queste cazzate su tiktok io l'ho sempre detto tiktok andrebbe chiuso abolito basta basta tiktok rovina la gente vedo gente che che ha la prima elementare che ha i miliardi poi gente che studia non riesce ad arrivare a fine mese questo è per gente come voi che guardano questi esseri immondi che fanno cagare sono anche la rovina di Napoli però li facciamo salire come se fossero padri eterni detto questo la situazione è gravissima se Osimene domani non verrà convocato lo sapremo domani nella lista convocati però ragazzi è molto 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 in dubbio la presenza di Victor Osimene domani sera e ragazzi secondo me questo rimane fuori fino a fine gennaio noi ci siamo giocati noi ci siamo giocati Victor Osimene ma non per questioni legate al rinnovo e anche qui poi ci arriverò a parlare del rinnovo di Osimene e anche di Kvara ragazzi perché i giocatori che ti hanno fatto vincere un campionato uno scudetto come quello della passata stagione e tu non gli dai non gli dai un aumento di contratto o di altre cose ragazzi io lo trovo alquanto ridicolo perché tu hai detto voglio rinnovare Osimene voglio rinnovare Kvara Osimene c'ha sempre il contratto di 3 anni fa 4 anni fa Kvara guadagna un milione un milione Kvara quindi io mi dispiace che questo video esce un pochino lungo siamo già oltre 5 minuti però Kvara questa è una cosa che naturalmente seguiranno aggiornamenti domani ragazzi anzi il follow non l'ha ancora tolto ragazzi il follow non l'ha tolto quindi per ora segue ancora l'SCC Napoli io questo video ragazzi io di scandaloso non lo trovo tanto scandaloso perché vabbè c'è questo non so se ve lo posso far vedere ragazzi ve lo farò vedere tanto è un video è questo qui è questa cosa lui dice dobbiamo essere tutelati Victor deve essere tutelato da cosa devi essere tutelato io è questo che non riesco a capire ragazzi non riesco a capire però ve l'ho detto io mi schiero dalla parte di Victor perché Victor ragazzi sta passando un brutto periodo e noi poi se continuiamo così tutto questo per un allenatore di merda io già l'ho detto scusate mi voglio qua è luna di notte quindi io è una cosa che io trovo assurda trovo veramente assurda ritrovarsi così nel pieno di una stagione appena iniziata avere tutti contro Capara contro Simen contro tutti i giocatori simboli della passata stagione sono contro l'allenatore tu cosa fai ti focalizzi contro il giocatore cioè ragazzi a me queste cose non mi piacciono per nulla è più forte di me è più forte di me veramente spero esca qualche comunicato della SSC Napoli ma io penso che non faranno uscire niente e questo è ancora più ridicolo ragazzi io non ho parole io non ho parole ragazzi buttare via un talento come Victor Rosyman per un video del genere è una mazzata allucinante io non so voi ma io ci sono rimasto malissimo ve l'ho detto è l'una all'1 e 3 minuti di notte io sono sconsolato vorrei bestemmiare ma non bestemio perché tanto è inutile è inutile veramente comunque fatemi sapere qui sotto voi nei commenti cosa ne pensate domani seguiranno di sicuro aggiornamenti costanti sulla pagina Telegram ci saranno aggiornamenti costanti anche qui su Youtube sulla community di Youtube comunque iscriviti al canale sempre e comunque forza Napoli in un periodo del genere un periodo del genere queste sono cazzate grosse secondo me sono cazzate troppo grosse comunque iscriviti al canale grazie a tutti